I risultati sono, da un certo punto di vista, incoraggianti perché, per esempio, i candidati al Comune di Roma risultano assolutamente apposto dal punto di vista penale. Sono più preoccupanti da un punto di vista più propriamente politico. Pensiamo soprattutto a quei comuni sciolti per mafia in alcune regioni del nostro Paese, soprattutto quelle meridionali, dove si sono presentati solo liste civiche, che non sono certamente l'espressione di una riscossa della società nei confronti della politica, bensì uno strumento nel quale la politica si nasconde e magari apre attraverso il trasformismo anche il barco alle mafie. Ancora una volta si dimostra che prendere in esame le situazioni giudiziarie è sicuramente importante, ma che più importante è la selezione della classe politica da parte dei partiti, perché essere apposto con la legge è un presupposto necessario, ma non sufficiente per fare buona politica, soprattutto per fare una buona politica contro le mafie.